Montecorvino Pugliano, Salerno, ha preso il via la Sagra degli Antichi Sapori Puglianesi che si concluderà il 5 agosto. Menù speciale e grande musica. Guest star, il noto musicista e cantante, James Senese, che con il suo vasto repertorio ha inaugurato la Sagra. Al vasto e ricco repertorio musicale e di intrattenimento, si accompagnerà un menù di altissimo livello. Tante le specialità della tradizione locale e regionale da poter degustare. La Sagra è un'occasione unica per assaporare i prodotti tipici locali, preparati con cura e passione secondo le ricette tramandate di generazione in generazione, afferma il sindaco Alessandro Chiola. A Montecorvino Pugliano la genuinità è di casa. I visitatori troveranno solo l'autenticità dei sapori veri, quelli che sanno di tradizione e passione. Ringrazio l'amministrazione comunale, i volontari e le attività commerciali locali. Venite ad immergetevi nella nostra cultura e lasciatevi conquistare dalla magia della Sagra degli Antichi Sapori Puglianesi che si terrà dall'1 al 5 agosto prossimi, sottolinea il presidente della Proloco, Nicola Palo.